Buonasera, la cantina, la maison è chiaramente in Reims, nasce nel 1856 e chiaramente dal 1856 ad oggi riesce a diventare una delle maison più importanti. Oggi è la seconda maison del mondo, a livello di distribuzione e produzione di Champagne. Le etichette di maggior prestigio sono la Cuvée Louise che è un millesimo del 1999 ed è il nostro top di gamma. Chiaramente abbiamo anche la versione Rosé che oggi è una 2000. Poi ovviamente oltre a Cuvée Louise abbiamo tutti i Champagne che fanno parte della Maison, quindi parliamo sempre dal pomerì millesimato alla Pannage Rosé e chiaramente al nostro top per quanto riguarda la mescita che è il nostro pomerino. La Maison si rivolge chiaramente a tutto il mondo, ha 10 filiali, l'ultima filiale, l'ultima nata è proprio quella italiana e ovviamente il mercato di riferimento più importante ancora oggi per tutte le Maison, per tutto il mondo dello Champagne è l'Inghilterra, oltre chiaramente la Francia. L'Italia è oggi al quinto posto, quindi comunque è un mercato di riferimento molto ma molto importante che tant'è vero appunto la Maison ha voluto aprire circa quattro anni fa la propria filiale. Questo per noi è il primo anno di partecipazione, devo dire che è assolutamente ben fatto, ben organizzato, c'è veramente tantissime, ci sono state tantissime persone, tra l'altro anche molti operatori del settore per cui noi per quanto ci riguarda è assolutamente una conferma di quello che poteva essere l'organizzazione della Starwood per cui è assolutamente positiva. Grazie a tutti!